Ciao a tutti, io sono Chiara e bentornati in un nuovo video Questo video è sempre un Chiara racconta parte 2 Quindi questa è la seconda storia che vi volevo raccontare Questa volta la storia riguardo alla mia prima gara di cross country Allora, innanzitutto devo fare un po' di premesse La prima premessa è che non sono brava a correre Il motivo per cui faccio cross country è solo il fatto che la mia local Adesso lo spiego una volta per tutte così La domanda non sporge spontanea per quale motivo sto facendo cross country Per chi non lo sapesse cross country sarebbe la corsa di resistenza Quindi bisogna fare tipo la gara di 3 miglia che sarebbero 5 km E appunto chi arriva prima vince E non sono brava a correre, sinceramente non mi piace correre Ma il motivo per cui sono nella squadra di cross country è che Uno volevo fare sport o qualcosa di fisico Però la mia local coordinator mi aveva detto che per le persone che fanno 6 mesi È impossibile fare sport perché la squadra non vuole qualcuno da avere solo da 6 mesi E poi da lasciare dopo E quindi mi ero messa il cuore in pace che non potevo fare sport Poi ho scoperto effettivamente che lo potevo fare Anche perché poi gli sport sono semestrali Quindi non so per quale motivo la mia local coordinator mi aveva detto di no E a quel punto era tipo inizio settembre E quindi tutti i team avevano già tutte le squadre Io volevo fare palla a volo ma aveva già una squadra formata e non la potevo fare L'unico sport che potevo fare era cross country Perché le ragazze sono pochissime E quindi non interessa a nessuno se inizi dopo o inizi prima Puoi entrare quando ti pare E quindi io con le altre due exchange students abbiamo deciso di entrare in cross country Quindi effettivamente ci sono entrate a molto dopo Tipo a fine settembre che è iniziato a metà agosto Quindi è tipo un mese e mezzo dopo Per fortuna nella mia scuola la stagione di cross country finisce tipo a novembre Perché in altre scuole finisce tipo ad ottobre Quindi sarebbe stato un po' inutile Quindi detto questo lo faccio con cross country Faccio una settimana e la settimana dopo c'è il primo meeting C'è la prima gara insomma Allora così vado a questa gara E io non sono brava a correre E non ho mai corso tre miglia Mai il massimo che ho corso senza fermarmi Penso che sia stato due chilometri Quindi insomma vado lì e tutti mi rassicurano No guarda non ti preoccupare non sarai mai l'ultima Perché c'è sempre sempre qualcuno che è peggio di te Che proprio si ferma il primo meeting Che si ferma subito Stai sicura non sei l'ultima Ce la puoi fare Anche perché c'erano Cioè nella mia scuola di cross country siamo tutte Messe male Tranne due tipo Tranne tre una cosa del genere Siamo tutte veramente Messe male Quindi mi hanno detto tutte No guarda ce la farai Ce l'abbiamo fatta tutte Non sarai l'ultima Ok Praticamente poi cross country funziona Che c'è la squadra varsity E la squadra jv La squadra varsity è la squadra di Quelli più bravi Che appunto corrono più veloce E possono essere solo sette di ogni Di solito Sette di ogni scuola E poi ci sono i jv Che invece gareggiano tutti insieme Maschi e femmine E sono tutti gli altri Quindi di solito Cioè dipende Però Le gare a cui avevano partecipato Le altre volte Erano tutti insieme Cioè varsity e jv tutti insieme Quindi si parla tipo di mille persone Che gareggiano tutte insieme Cioè però divisi maschi e femmine E quindi ovviamente non sei l'ultima Con tutte quelle persone E invece praticamente La mia prima gara Era solo varsity Quindi solo Cioè era varsity separata da jv Noi siamo pochissime femmine Quel giorno eravamo tipo 8 E quindi noi siamo tutte in varsity Siamo tutte nelle più brave Pur io non essendo brava Pur tipo 6 persone su 8 Non sono brave Però siamo tutte in varsity Siamo tutti nella squadra più brava Io ovviamente quando ho iniziato la gara Non lo sapevo Allora cosa faccio Inizio questa gara Così ovviamente con il presupposto Mi fermerò Cioè in senso inizierò a camerare Però camminerò poco E cercherò di andare avanti Allora cosa faccio Inizio a correre così Poi incontro altre due ragazze Carinissime veramente Che correvano con me Erano di un'altra scuola Di un altro team Però continuavano a dire Dai corri 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 Sì non ti fermare Così quindi ho corso per un bel pezzo Con loro tipo Due miglia Una cosa del genere Poi a un certo punto ho fatto proprio No un attimo Io mi devo fermare Un attimo devo camminare Andate Vi lascio Io devo camminare E allora Mi sono un attimo fermata Mi sono messa a camminare Così E io praticamente Ora ho capito Come funziona Però All'inizio non lo sapevo Io iniziavo proprio Spedita Dicevo Ma c'ho un sacco di energie E iniziavo spedita E essere nei primi posti E poi Tutti mi superavano Perché morivo Cosa sbagliatissima E poi tra l'altro Facevo Un pezzo Tipo di corsa Poi mi fermavo Un pezzo di corsa Poi mi fermavo Quindi Stavo morendo E a un certo punto Mi sono accorta Che Non c'era nessuno Dietro di me E quindi mi sono accorta Che ero l'ultima Io stavo morendo Ed ero Anche tra l'altro L'ultima Quindi tipo Mi sono demoralizzata Tantissimo Ma proprio tantissimo Tipo ho fatto Ma no Come è possibile Sono ultima Io aspettavo Con ansia qualcuno Che arrivasse dietro di me E non c'era nessuno Quindi tipo Io lì Morente Cercando di camminare Correre Di fare il meglio di me Ed ero anche l'ultima Mi sono proprio Demoralizzata tantissimo Non c'era nessuno Che mi spingeva A correre ancora E allora ho detto Ovviamente Adesso ascolterete La mia stupida storia Ho detto Sai cosa Dico che mi sono fatta male E che non ho potuto finire Vedevo il traguardo Proprio Lontanissimo Ero tipo a due miglia Mi mancava ancora un miglio Ma Ho detto Non ce la potrò fare Devo dire Che mi sono fatta male L'idea L'idea già di suo Era sbagliatissima Ma poi la mia idea Era ancora più sbagliata Ovviamente Fortunatamente Questo video Non lo può vedere nessuno Della mia squadra Di Coscantri Perché non parlano italiano Quindi questo È ottimo Io ho detto Però sai cosa Se io dico solo Che mi sono fatta male Nessuno mi ci crede Cosa Sbagliatissima Ci avrebbero creduti tutti E quindi ho detto Voglio vedere il sangue Io durante la gara Mi sono fermata Ho preso un bastone E mi sono iniziata Ad incidere la gamba Proprio come un idiota E Ora ripensate Ci sono proprio Un idiota Quindi E volevo vedere il sangue Cioè io proprio Volevo vedere il sangue Volevo dire Che ero caduta E almeno la gente Mi ci credeva Insomma Se vedeva tutta la mia gamba Sbragiolata Mi ci credeva Che ero caduta Quanto sono stupida Ma quanto sono stupida Allora Allora dico Comunque Quando appunto Avevo Ottenuto un bel risultato Che tra l'altro Era pessimo Come risultato Mi sono detta Vabbè Non corro più tanto Cammino Perché Perché appunto Dico che sono caduta Quindi inizio a camminare Così Arrivo Che già tutti Avevano finito Ma da un bel pezzo Poi avevo tagliato Un pezzo Cioè avevo fatto tipo Un milio in meno Però ero comunque Proprio Arrivata un sacco Un sacco dopo Cioè tutti avevano finito Erano già nelle loro tende E incontro il mio coccio Gli dico Guarda io non ce l'ho fatta Sono caduta Così Lei mi ci crede Ovviamente Mi dice Dai vatti a mettere il ghiaccio Così Dice un'altra mia compagna Aiutala a portare il ghiaccio E lei fa Oddio cos'è successo Così io dico Sono caduta E lei fa Dai non ti preoccupare Almeno ce l'hai fatta Almeno ce l'hai fatta Cioè praticamente Io ho poi incontrato Tutta la mia squadra E tutti a congratularsi Con me Perché Anche se ero caduta Avevo finito E io niente Non ce l'ho fatta A dirgli che non avevo finito Perché nessuno Effettivamente Mi aveva visto E quindi Io praticamente Non l'ho detto A nessuno Quindi tutti a congratularsi Con me Che avevo finito Dai brava ce l'hai fatta Cioè E tutti a dire Anzi Oddio io se fossi caduta Mi sarei messa a piangere Lì per terra Tu hai continuato Eppure finito E io tipo lì Sì Sì È proprio quello che ho fatto Ora Ci rido su Su questa storia Ma in quel momento Mi sentivo proprio Una Uno schifo di persona Tipo Oddio non ce l'ho fatta Che schifo E tutti si stanno Si stanno congratulando con me Io invece non l'ho finita La gara Comunque Sta di fatto che ancora Tutti i miei compagni Non lo sanno E Tra l'altro Ho avuto Ho fatto una Pess Cioè Era una pessima Pessima idea Perché Cioè La mia gamba È completamente Scorticata Non ve la faccio vedere Perché vabbè Ma ancora Le incisioni Era pochissimo Credibile Ma proprio la cosa Meno credibile Di tutte E Quindi potevo Semplicemente dire Che mi faceva male Una caviglia Che mi faceva male Un ginocchio Perché già altre due persone Hanno detto che gli facevano male Una caviglia Un ginocchio E si sono fermate Senza problemi No Io invece mi dovevo Sbragiolare Tutta la gamba Tra l'altro Sbragiolare Non c'è come Verbo Ma ok In quel momento Mi sentivo proprio Malissimo Tipo Sono una nullità Non ce l'ho fatta Ero ultima Però Tra l'altro C'erano 35 persone Che sono pochissime Per una gara Di cross country Io gareggiavo Con le più forti E quindi Sì C'è proprio Uno schifo Tra l'altro Poi Il fatto Ha voluto Che la mia Seconda gara Di cross country Fosse nello stesso posto E quindi Ce l'ho avuta Tipo due giorni fa E ragazzi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ho finito Ho finito Non ero l'ultima Anzi Ero anche Una buona posizione Quindi sono fiera di me Il fatto Ha voluto Che Riandassi nello stesso posto Gareggiassi sempre Nella varsity E stavolta Ce l'ho fatta E poi tra l'altro Ho incontrato anche Le due ragazze Con cui correvo La volta prima E sono arrivata Prima di loro Quindi sì Era tipo una La mia prima gara È stata un po' Per dirmi Guarda Chiara Hai fatto proprio schifo La prossima Ti ci devi proprio impegnare E infatti L'ho fatto Quindi questa era la storia Di come Io stupidamente Mi sono scorticata Tutta una gamba Per niente E come ho mentito A tutta la mia squadra Di cross country Ma anche tipo I miei genitori A tutti Ho detto che ce l'avevo fatta Perché mi sentivo proprio Non lo volevo dire Che mi ero fermata Ora invece Vabbè Ci scherzo su Insomma Dai Poi Alla volta dopo Ce l'ho fatta Quindi Insomma questo Questa era la mia storia La mia stupida storia Di come Chiara Fa le decisioni sbagliate Spero che vi sia piaciuta E interessata E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Bye Bye